Beni per un valore di 5 milioni di euro sono stati sequestrati questa mattina dalla Guardia di Finanza nel Napoletano a tre imprenditori accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il provvedimento riguarda la vicenda della Glem SRL, società del settore abbigliamento dichiarata fallita nel 2016 dal Tribunale di Roma. Secondo gli inquirenti, i tre imprenditori per sottrarre ai creditori il patrimonio della società avrebbero dissimulato coperto le tracce dei beni aziendali determinando un danno patrimoniale quantificato in circa 9 milioni di euro. I tre avrebbero poi continuato nella gestione imprenditoriale attraverso nuove società di comodo. Le indagini delle Fiamme Gialle di Nola hanno portato alla notifica degli avvisi conclusioni indagini a carico dei tre imprenditori ed ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Roma per un complesso immobiliare a San Giuseppe Besoviano del valore di circa 5 milioni di euro. Dopo il caso della donna dello Sri Lanka intubata e ricoperta di formiche mentre era ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, questa mattina c'è stata una nuova ispezione. A varcare i cancelli dell'ospedale per far luce su una vicenda che è stato l'ennesimo campanello d'allarme sullo stato della sanità in Campania è stato il presidente della Commissione Sanità al Senato Pierpaolo Sileri, accompagnato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Domenica Castellone e dalla consigliera regionale pentastellata Valeria Ciarambino. Io credo che per cose del genere esista solo una soluzione, il commissariamento, non della regione, dell'ospedale. Quindi bisogna trovare la via per commissariare tutti gli ospedali che non hanno quegli standard che probabilmente dovrebbero avere. Perché sulla carta molte volte li trovi, però poi dopo se si osserva bene c'è qualcosa che non va. Allora dobbiamo ritrovare l'eccellenza, il sistema pubblico viene prima di ogni altra cosa, tutte le risorse devono andare prima per il pubblico e solo per il pubblico per risistemarlo. Poi successivamente si può pensare al convenzionato, al privato eccetera. Siamo venuti sia per l'episodio delle formiche ma anche di qualche giorno fa l'episodio della pioggia in sala parto, quindi abbiamo visionato questi reparti, col direttore generale abbiamo chiesto di visionare anche i reparti di medicina, di ortopedia, il pronto soccorso e devo dire che si sono confermate quelle che poi erano, era ciò che ci aspettavamo. Quindi un pronto soccorso con, ci dicevano, 65 mila accessi all'anno che non ha ancora un triage e che vede ricoverati dei pazienti anche per dieci giorni in attesa di essere trasferiti in reparto. Dopo il falò della camorra contro i pentiti a Castellammare di Stabbia arrivano i primi provvedimenti della magistratura. Un fascicolo contro i gnoti è stato aperto dalla procura antimafia e cinque responsabili sono stati identificati grazie a foto e video raccolti dagli inquirenti di quel falò della vergogna, salutato dagli applausi della gente e dai fuochi d'artificio nel quartiere Aranciata-Faito, rione di Castellammare di Stabbia considerato roccaforte del clan d'Alessandro, decapitato di recente con l'arresto dei reggenti. Durante i tradizionali falò della notte dell'Immacolata, la camorra aveva lanciato il suo messaggio «Così devono morire i pentiti bruciati». Una frase eloquente è apparsa su uno striscione messo insieme ad un manichino sulla catasta di legno che a mezzanotte è stata data alle fiamme. «La mia amministrazione non accetta nessuna sfida alle istituzioni», aveva dichiarato all'indomani dell'accaduto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino, che aveva sollecitato le forze dell'ordine a prendere tutte le misure necessarie per ripristinare la legalità in ogni quartiere della città». Dopo il successo netto sul Frosinone in campionato per quattro reti a zero, il Napoli pensa al match con il Liverpool decisivo per il passaggio del turno in Champions League. Martedì sera la squadra di Ancelotti è chiamata a dare il meglio di sé su un campo ostico come l'Anfield, ma il tecnico partenopeo chiede alla squadra una prova di carattere senza timori reverenziali. Il Napoli al Liverpool non farà certo le barricate. «Si va al Liverpool per cercare di giocare la nostra miglior partita possibile e per cercare di sfruttare al meglio quelle che sono le nostre qualità che non sono qualità difensive. Questa è una squadra che cerca sempre di imporre il proprio gioco. Abbiamo la buona immagine che ci ha dato la partita di andata e anche se il Liverpool ha cambiato un po' la sua strategia, credo che andremo a impostare una partita per cercare di giocare al meglio delle nostre possibilità, come abbiamo detto anche dopo la partita della Stella Rossa senza fare troppi calcoli. Abbiamo preparato una torta che è stata una torta complicata con degli ingredienti molto complicati. Adesso c'è da metterci la ciliegia e siamo tutti pronti per mettere la ciliegia e ci comporta il fatto che anche il nostro pubblico ci crede».